Sì, qui c'è il nostro gruppo scelto sotto, ma sono membri del gruppo che sono in avanguardia del sistema di migliori e di medio ambiente con il nostro bambino e il dumpo in un forno e con il nostro per osservare il quattro per cinque e per me il flamma non si salga, non si tratta di nulla gente Poi all'arco, si, va in alto, c'è 40 gente di barco con i piccoli in alto, ci si ha una patruccia e la polizia che non si sia vivo in alto, non si viva in alto, non si muove a manifestare, non si, avessare qui per noi, per noi, ci si tratta di una cosa che si tratta di schien per noi, non si tratta di una cosa che non c'è di un'altra e di un'altra cosa che si tratta di un'altra cosa che si tratta di un'altra la misa di cattolico non ti predica e sei a un mito tende doni rasmai che messo messo teme e non busca che a rassi e a noi di gruppo che te tambi nota busca che a rassi e però si nostra bis a 6 anni e mei non sa bom bom che non assinata ribadom e sera cresce e tem pata pati mosca è un situacione desagradabile non sa bai è boi mas po boi non sa qua che mangrova è boi non sa mira contegna non con la clapa pone volteira non sa qui che ta però non sa vai buscandrete se a bossa come prensa a riparare con doni rasmai a convocar un riunione da staten tocante dump querendo che tabai stop gruppo 7 e outro gruppo dan salvaruba nostra ruba e tabai stop nos di acion mi sa che la convence il gruppo di parquito boss però gruppo 7 nota stop passo algo mi stia a sera assi a na zero cristal mi chiede a bossa che è chubato dan abbaha fesero e via mativeridiri tambi è chubato dan abbaha fesero percebi che mi chiede a bossa algo non si pese a assi e jaco ver che è che non sa a osservare che non si pese a assi e non si pese a assi e non si pese a assi e non per gruppo 7 e non sta esperto non sta non sta esperto non di medio ambiente che mi sei un gruppo MO în to' solo si pese e糕 the fundazione lo stia i pese di di spese di medio ambiente che mi secunza verà attivo da questi modi e colo i politico U�� tem solche noutra problema di oposicione, sona problema di fuori dforzo non si c'è la cabezza ma non si algo un costito vai visar bozo a jawono a nos nota vai para che coschi si gobierna di pesati no ha si nada no sta vai buscare ayuda internacional llama pide edo io tankava cota passei tras tirano pari shot panos e persona non continuo un drone por favor d'una noz d'una noz e pari shot panos vai internacionalmente che coschi promete aiuto conosco vai pedir tar hulana mes de reino nostra vai pedir ayuda e pisando e gobierna qui notaciano net net nada tabai minione cinca tabai minione cinca den plataforma na internacional pisando con nostra green gaba non nota nada di green bai aburibari bai zero cristal via quinan corre ronjaruba bai bani palomarga botawak con e tiki verde conosco che da cune sta virando un desastre e nostra virando ma non un volcán lo che dai coschi tu un volcán età in nostra gradi sia vosso come prensa cabina qui